bentornati al primo women gk stage by eleven in collaborazione con il trento calcio femminile in questo secondo allenamento in compagnia mia di stefano scaldi allenatore del trento femminile i due ospiti di eccezione amanda tampieri da sampdoria e francesca debone sassuolo ci siamo dedicati a uscite alte e riposizionamenti dopo deviazioni su cross ma ora mi taccio e vi lascio al video calcio d'angolo di là tu sei la posizione classica ok lei la tua marcatrice e al pallone in mano mi scarica una palla sul mio scudo tu nel frattempo è come se questa palla qua non sai non fosse riuscita ad uscire recuperi porta e ti faccio una presa in figura con lo scantino si eccola buona si bravissima brava brava meglio tardi che mai brava ottimo brava immaginiamo come stamattina di essere belli alti la palla viene giocata sul fondo ok quindi recupero la posizione arrivo e vi do una palletta morbida qui andiamo in terzo tempo chiamiamo si brava posizione e vieni io buona si brava bravissima brava chiama 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 si brava guadagna ecco lì io perfetto brava guadagna ecco lì io buona si brava laura ci fermiamo un attimo con l'allenamento per ricordarvi che sono usciti i nostri nuovi modelli ovvero vision plus e vision dg e sin dal primo momento sono stati super apprezzati da tutti per cui vi invito a andarli a scoprire qui vi lascio il link in descrizione perché sono veramente delle bombe ma soprattutto vi invito a mettere like e a iscrivervi al nostro canale che ci dà veramente tanto una mano a portarvi contenuti sempre di qualità su questo canale dedicato interamente ai portieri ma continuiamo con l'allenamento avversaria qui avversaria qua che ci dà un fastidio ok quindi siete abbastanza infastidite io posso mettere una palla qui e farvi fare l'uscita posso aprirla leggermente dove c'è la vostra compagna che con lo scuo fa gol sul primo palo quello che mi interessa è che decidiamo noi brava ottima buona brava chiama 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 brava chiama brava brava toccata se abbiamo tanto tempo il terzo tempo è la cosa che ci permette di andare su con porta se abbiamo poco tempo come in questi casi qua che abbiamo un avversario che ci attacca la mischia davanti fare il terzo tempo ci può fregare perché nel trovare il passo perdiamo la coordinazione per essere efficaci e allora a quel punto lì veramente basta questo un pugno ok un salto accostato non è necessario essere precisi e perfetti ok chiaro che se ho tempo allora me la vengo a prendere come abbiamo fatto prima qua nella mischia l'importante essere efficaci ok pala lunga arrivo ok si è divisa in due squadre una squadra difende le due porte una squadra con gli scudi attacca a due alla volta ok io il mister ci passiamo la palla lungo il limite dell'area come se fossimo due attaccanti che fanno uno scarico oppure mettono una palla profonda a un certo punto parte un cross ora è gol se va in qualsiasi delle due porte ok chi fa gol può fare gol con lo scudo qui o con lo scudo lì chiaramente se mancate con lo scudo e la palla va in gol lo stesso è sempre gol il concetto è che dobbiamo difendere utilizzando questa porta qua e difendere in maniera efficace la porta verticale che è lo spazio di fronte a noi ok quindi chiaramente avete la compagna che vi aiuta però dobbiamo anche pensare di prenderci qualche rischio perché siamo in inferiorità qua con due scudi i due mister che prossimo ok E' un fuori gioco Arbitro, fuori gioco, fallisimente sulla risa, fai a rivedere, rivedere? Non mica ho tutta l'inquadratura, registro in verticale, l'ho visto, non si vede. Ecco due, ce l'hai lei? Sì! Ti vuoi il cioccolato? Brava, Mabri! Sì! Sì! La buco! Sì! Eh! Sì! Brava, Mabri! Allora, io ti ho detto la buca. Io ti metto la stessa, la taglia. Sì! 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 Oh! Sì! Sì! Oh! E questo è tutto per il primo giorno di Women GK Stage by Eleven, è stato veramente un piacere vedere le ragazze in campo questa giornata, ci saranno altri due giorni di allenamento intensissimo, vi invitiamo a scoprire tutto quello che è successo sul nostro sito e sui nostri social, per il resto vi saluto, vi invito di nuovo a mettere like e ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!